Il Cocker Spaniel inglese è una razza di cane di taglia media, caratterizzata da un corpo muscoloso e proporzionato. Il loro pelo è lungo e setoso, con diverse colorazioni tra cui nero, marrone, fulvo e bianco. Questa razza ha origini nel Regno Unito, dove è stata sviluppata per la prima volta come cane da caccia per recuperare il gioco d'acqua. Il Cocker Spaniel inglese è stato successivamente importato negli Stati Uniti, dove è diventato popolare sia come cane da caccia che come animale domestico. Oggi il Cocker Spaniel inglese è ancora una delle razze di cane più popolari al mondo. Sono amati per il loro aspetto grazioso e per il loro carattere affettuoso e giocoso. Questa razza è anche spesso utilizzata come cane da esposizione a causa della sua bellezza e grazia. Prima di proseguire con le informazioni comportamentali e veterinarie di questa razza canina, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina sia per gli uomini che per gli animali in generale. Il Cocker Spaniel inglese è noto per il suo carattere affettuoso e vivace. Sono cani molto intelligenti e in grado di apprendere facilmente nuovi comandi. Hanno un forte desiderio di piacere ai loro padroni e sono molto leali. Tuttavia, possono essere anche testardi e necessitano di una guida ferma ma equilibrata per evitare comportamenti indesiderati. I Cocker Spaniel inglesi hanno bisogno di un'adeguata socializzazione fin da cuccioli, poiché sono cani molto sociali e amano l'interazione con le persone e gli altri cani. Richiedono una buona dose di esercizio fisico, ma possono anche adattarsi bene a una vita tranquilla in casa. Come molte razze di cani, i Cocker Spaniel inglesi possono sviluppare problemi comportamentali se non vengono adeguatamente addestrati e socializzati. Sono anche inclini ad alcuni problemi di salute che possono influenzare il loro comportamento, come le malattie oculari e dell'orecchio. I Cocker Spaniel inglesi sono predisposti ad alcune malattie ereditarie, tra cui problemi oculari come la cataratta e l'atrofia progressiva della retina. Sono anche inclini ad avere infezioni dell'orecchio, a causa del loro pelo lungo e delle loro orecchie pendenti che possono trattenere l'umidità. Altri problemi di salute che possono colpire i Cocker Spaniel inglesi includono la displasia dell'anca e l'epilessia. Per prevenire queste malattie, è importante acquistare un cane da un allevatore affidabile e di comprovata esperienza, che abbia fatto tutti i controlli necessari sulla salute dei genitori del cucciolo. In generale, i Cocker Spaniel inglesi richiedono molta attenzione alla loro salute e benessere, inclusi regolari controlli veterinari e una dieta sana ed equilibrata. È importante anche mantenere una corretta igiene, in particolare nella zona dell'orecchio, per prevenire infezioni e altre malattie. Il Cocker Spaniel inglese è una razza di cane affettuosa, vivace e adatta sia alla caccia che come animale domestico. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle loro possibili malattie e problemi di salute, per garantire loro una vita lunga e felice. Con l'adeguata cura e attenzione, i Cocker Spaniel inglesi possono diventare dei fedeli compagni per molti anni. Stai cercando il veterinario specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it, oppure su www.socialdoctor.it, oppure su www.studio pronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute sia del tuo corpo, che del tuo animale domestico. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!